Il quotidiano dedicato ai fatti della politica italiana sulla stampa, di cui è stato direttore per sette anni, poi corrispondente da Londra ed è oggi editorialista. Ha lavorato in Rai, dove ha diretto il TG1 e il giornale radio. A lui è affidata la nota politica del giorno del programma Agora, in onda su Rai 3. Ha scritto la testa, tra i suoi libri citiamo La testa ci fa dire, dialogo con Andrea Camilleri, E' Daciano e il comunista, Le amanti del vulcano, Il grande Dendi, Le sconfitte non contano e l'ultimo del 2016, Colosseo Vendesi, una storia incredibile ma non troppo. Signore e signori, Marcello Sorgi. Grazie, grazie di questo invito, mi ha fatto veramente un gran piacere tornare ad Asti, il mio collega Gavina mi ricordava che ero venuto qui il giorno dell'elezione di Papa Benedetto, quindi era qualche anno fa, nel 2005, e poi mi fa un gran piacere partecipare ad un'iniziativa come questa, così sentita, così piena di passione per la cultura, per la letteratura. Devo dire che quando la storia della mia partecipazione a questo evento dedicato alle rivoluzioni è nata abbastanza per caso, nel senso che Alberto Sinigai, il direttore scientifico di questo festival, aveva partecipato come me alla celebrazione dei 150 anni della stampa che abbiamo fatto quest'anno, il 9 febbraio, e lì uno degli eventi che facevano parte di queste celebrazioni era l'incontro degli ex direttori, e quindi c'erano un po' tutti i direttori del dopoguerra, diciamo, di quelli rimasti in vita. Io, essendo poi nella vita un giornalista politico, a un certo punto sono stato interrogato sulla situazione politica italiana e mi è venuto di dire che l'Italia è l'unico paese al mondo in cui la rivoluzione è cominciata e non è mai finita. Nel senso che dappertutto ci sono un sacco di paesi che sono passati per rivoluzioni, immagino che ne avrete sentito parlare durante il programma di questa manifestazione, ma non c'è un paese come l'Italia in cui la rivoluzione è cominciata e a un certo punto non è più approdata da nessuna parte, cioè procede, diciamo, a cerchi successivi, a epoche successive, con protagonisti diversi, ma senza mai avere un momento di assestamento. Ed è curioso che questo avvenga in un paese che aveva una democrazia ormai consolidata, aveva sì patito una lunga dittatura, il fascismo, ma insomma quella che era chiamata la prima repubblica era considerata con tutte le sue anomalie un sistema stabile, stabile grazie ad alcune sue particolarità, insomma l'Italia era il paese del blocco occidentale con il maggior partito comunista d'Europa, un partito che poteva arrivare a raccogliere 12 milioni di elettori. Era un paese che così nel protocollo di Yalta era comunque assegnato al blocco filoamericano, chiamiamolo così, era un paese insomma in cui i partiti che stavano al governo erano sempre quelli. La democrazia cristiana che era il cardine di tutti i governi, il blocco dei partiti laici, liberali, repubblicani e socialdemocratici e il partito socialista. Il partito comunista era uno dei partner del patto costituzionale, uno dei grandi firmatari della costituzione repubblicana del paese, ma per una convenzione legata molto a aspetti internazionali non poteva andare al governo. Io vedo qui gente di tutte le età e questo mi fa piacere, quindi immagino che ci sono tra voi persone che si ricordano perfettamente l'insieme della Prima Repubblica, che c'era abbastanza familiare, persone che ne hanno sentito parlare, persone che magari non l'hanno proprio vissuta. Però quando dico nomi come Andreotti, Fanfani, Craxi, Berlinguer, immagino che sia qualcosa che vi fa tornare in testa dei ricordi. No, e potrei dire Togliatti, Nenni, De Gasperi, che appartengono a un'epoca in cui io non ero nemmeno nato. La caratteristica di quella Repubblica lì era di essere abbastanza immobile, diciamo la verità, di tenere insieme un paese che aveva conosciuto una grandissima, forte, veloce evoluzione negli anni del dopoguerra, i cosiddetti anni del boom, gli anni che andavano, insomma, gli anni 50 e l'inizio degli anni 60, anni in cui questo paese, questo popolo, gli italiani, insomma, avevano dato prova di una grandissima capacità di costruire. No, il paese era stato distrutto dalla guerra, il fascismo lo aveva lasciato essenzialmente come un paese contadino, con un'agricoltura povera, nel giro di pochi anni era diventato il quinto paese industriale del mondo, e questo grazie a dei grandi sacrifici, ma anche a una grande capacità di impresa, e a una specialità tutta italiana, il coraggio, la voglia di scommettere, certe volte anche l'intuizione o il sogno di vivere in un'epoca diversa. Tutto questo corrispondeva invece a una classe politica immobile, fatta sempre più o meno delle stesse facce, facce che ci erano familiari, ognuno diverso dall'altro, insomma, sicuramente Fanfani era un uomo irruento, era un uomo che guardava lontano, era un uomo che forse fu il primo a intuire l'importanza della politica estera, uno che si andò a sedere di fronte a Khrushchev, che guardava alla Cina, invece Andreotti era il cosiddetto Divo Giulio, un uomo che aveva fatto la sua fortuna politica all'ombra del Vaticano. Fanfani delineava sempre dei piani per i successivi 50 anni, Andreotti era un famoso spezzettatore di problemi, non esisteva problema che non potesse essere risolto spezzettandolo in 100, 1000, 2000 piccole parti che a una a una potevano essere affrontate, ma di cui in fondo ad Andreotti non importava trovare la soluzione. Andreotti era un formidabile realizzatore di formule politiche, un uomo del tutto indifferente, per lui governare con i socialisti o governare con la sinistra, governare con la destra, gli era del tutto indifferente. Aveva capito una cosa fondamentale che era una caratteristica che faremo bene a ricordare, visto che a un certo punto poi quando gli romperà la rivoluzione vedremo cambiare questa caratteristica. E la caratteristica fondamentale di quel sistema era che il perno di tutto l'apparato istituzionale, insomma il pilastro, era il Parlamento. Non esisteva decisione che non passasse per il Parlamento. Cioè dopo 20 anni di dittatura in cui il Parlamento sostanzialmente non esisteva più ed esisteva solo il governo, un governo autoritario, dittatoriale, il governo di Mussolini, la Repubblica era nata attorno all'idea che il Parlamento, in cui tutte le forze politiche, anche quelle che contavano poco, piccoli partiti come quello di La Malfa, che era un partito che faceva neanche l'1,5%, stiamo parlando di 600.000 voti in tutta l'Italia, ecco anche le forze politiche più piccole erano rappresentate nel Parlamento. E il Parlamento era insieme il luogo delle decisioni, quindi immaginatevi la lentezza di queste decisioni, e anche il luogo in cui i governi si giocavano il loro avvenire. Se lo giocavano piuttosto spesso, tanto è vero che nella Prima Repubblica ogni 7-8 mesi, mediamente, un governo cadeva. E la caduta del governo non era mai un evento traumatico, come invece abbiamo imparato a riconoscerlo in questi ultimi anni. La caduta del governo era una cosa che cadeva un governo e se ne faceva un altro. Quasi sempre la caduta del governo corrispondeva a una diversa articolazione delle correnti del Partito Democristiano, che era un partitone enorme, un partito da 35-40% dei voti. Noi giovani cronisti, che lo guardavamo così, con la curiosità di esplorarlo, era un partito che si lasciava anche molto facilmente esplorare, non c'erano porte chiuse, si potevano consultare i verbali della direzione, tutti raccontavano tutto, insomma non aveva segreti. Bene, quel partito lì ovviamente bastava un piccolo spostamento di una corrente da una parte all'altra del partito per far sì che il governo cadesse e si ricominciasse da capo. In questo modo, diciamo, quindi con un governo che apparteneva più o meno sempre agli stessi partiti, un'opposizione in cui la parte del leone la faceva il Partito Comunista, devo dire un Partito Comunista abbastanza diverso dall'insieme dei partiti comunisti che c'erano in Europa, cioè un partito costituente, un partito formato da grandi personalità che non avevano nessuna intenzione di fare la rivoluzione. Il Partito Comunista funzionava come una sorta di filtro, di enorme filtro delle tensioni del Paese. Cioè cosa faceva? Che quando si generava una tensione del Paese, il Partito Comunista era una tensione che poteva riguardare una categoria di lavoratori oppure un insieme di disoccupati oppure un altro genere di problema sociale come quelli che prima o poi si manifestano sempre nelle società complesse e in Paesi grandi come l'Italia. Ecco, il Partito Comunista da un lato faceva la parte dell'organizzatore e quindi si metteva alla testa di questi movimenti, dall'altro andava a mediare e a trovare una soluzione possibile insieme al governo per eliminare questa tensione. Per cui la vita sociale e politica italiana era fatta di continui rigonfiamenti e continui svuotamenti che però non influivano sull'equilibrio generale. Cioè non era dato che un bel giorno il Partito Comunista potesse mandare all'opposizione la democrazia cristiana o i partiti suoi alleati. In questo modo il Paese ha vissuto 46 anni, dal 1948 che fu l'anno dell'entrata in vigore della Costituzione e quindi la Repubblica era nata nel 1946 con il referendum tra Repubblica e Monarchia ma effettivamente la Costituzione era stata fatta in un anno e mezzo. Dal primo gennaio 1948 l'Italia con il suo Parlamento diventava a tutti gli effetti un sistema istituzionale democratico diverso da quello che era stato fino ad ora. Da quell'anno lì, dal 1948, le famose elezioni del 18 aprile, al 1994, le famose elezioni del 27 marzo che furono vinte da un signore che si chiamava Berlusconi, per questi 46 anni durò quella che poi è stata definita la Prima Repubblica. La Prima Repubblica che aveva queste caratteristiche che vi ho detto, aveva queste personalità anche. Vi ho detto di Fanfani, vi ho detto di Andreaotti, potrei dirvi di Moro che molti di voi, soprattutto i più giovani, ricordano come vittima di un feroce assassino da parte dell'EBR seguito a un rapimento di 55 giorni. Ecco, anche Moro era una persona non interessata mai alla soluzione dei problemi, ma sempre interessata alla cornice dei problemi. Da questo punto di vista sarebbe interessante farne uno studio psicologico. Moro pensava sempre che il problema non era spostare questo vaso da qui a lì, ma creare delle condizioni per cui lo spostamento di questo vaso non desse fastidio a nessuno. Ecco perché fu l'uomo che inventò il centro-sinistra, cioè convince i democristiani delle origini, che erano un partito di destra sostanzialmente, a fare un accordo con i socialisti. Ecco perché ci rimise la vita, perché a un certo punto si convince che bisognava portare anche i comunisti al governo, cioè allargare il più possibile l'area dei partiti che si prendevano la responsabilità di guidare il paese, per fare in modo che anche gli sforzi più pesanti, anche i sacrifici più inattesi, fossero suddivisi tra una massa di persone che era sempre più larga. Questo suo progetto, che era un progetto di stabilizzazione del paese, non dimentichiamo che Moro viene rapito nel 78, i lavori per allargare i comunisti, il governo cominciano nel 76, le Brigate Rosse, che erano feroci ma erano anche molto lucide, capirono che questo era un progetto di stabilizzazione che veniva dopo anni, diciamo grossomodo dal 68 al 76, in cui questo paese, che io vi ho descritto come un paese tutto sommato tranquillo, no? Invece all'improvviso aveva conosciuto una fase, tutto un ribollire che era stato il movimento degli studenti, che era stato poi l'autunno caldo, che era stato l'insorgere di problemi come la disoccupazione o l'assenteismo che rendeva le fabbriche meno competitive e che poi era sfosciato in questo terrorismo interno che era sostanzialmente rivolto verso il governo e verso la sinistra tradizionale. Le vittime dei terroristi, ve lo ricorderete, erano personalità di diversità. La vittima più eccellente fu sicuramente Moro, noi della stampa avemmo il vice direttore Carlo Casalegno, che era un uomo che aveva il coraggio delle proprie idee e scriveva degli articoli in cui impattava fortemente contro il progetto folle e del tutto irrazionale dei terroristi, però ci furono vittime operarie, ci furono vittime tra i sindacalisti e diciamo che nella fase finale, che purtroppo è durata e continua a durare fino a questi anni, il terrorismo prese di mira un particolare tipo di studiosi e di professionalità che erano i gius lavoristi, cioè quelli che per compito hanno la capacità di inventarsi delle soluzioni organizzative nuove per il lavoro in tempi di crisi. Infatti vi ricorderete D'Antona, vi ricorderete Biaggi, per dire i nomi più recenti che sono accaduti. Ecco, questo paese insomma si era ammalato, aveva esaurito la fase della ricchezza, la fase del boom, faceva fatica a tirare la cinghia, vedeva sorgere al suo interno, all'interno della fabbrica, all'interno delle università, all'interno delle scuole, una tensione che poteva sfociare nel terrorismo. Moro si era inventato questa soluzione, pensava che allargando la responsabilità del governo ai comunisti avrebbe creato un sistema per cui le tensioni si potevano diluire in un ambito più largo. Sicuramente fu importante Craxi in quell'epoca lì, che fu un personaggio del tutto diverso, cioè un personaggio fortemente contestatore dell'assetto democristiano del paese, un personaggio per certi versi molto innovativo, un personaggio che poi fu al centro dello scandalo finale della prima repubblica che, devo dire, col senno di poi, non lo dico io l'ho detto il presidente napolitano nel decennale della sua morte, col senno di poi ha forse pagato perfino più colpe di quelle che aveva un innovatore che fu eletto forse molto più di quelle che erano le sue responsabilità effettive a simbolo della corruzione che portò alla fine della prima repubblica. Però facciamoci una domanda. La prima repubblica che finì tra il 1992 e il 1993 finì per effetto della corruzione, cioè dell'esplode, del famoso scandalo di Tangentopoli, il processo di Milano in cui vedemmo sfilare tutti questi leader uno dopo l'altro, cioè Craxi che si teneva a stento, Forlani che era un altro capo democristiano che poi fu anche presidente del Consiglio e candidato alla presidenza della Repubblica, Forlani con la bavetta agli angoli e la bocca che denotava molto nervosismo, Di Pietro che era l'inquisitore di tutti questi qui. Ecco, finì per quella cosa lì o finì anche perché nel frattempo nel 1991 e nel 1993 c'erano stati due referendum, peraltro promossi da un democristiano molto moderato, oggi si direbbe di destra, che si chiamava Segni, ed erano dei referendum che tendevano a cambiare il sistema elettorale del Paese. Personalmente, ma non pretendo di avere ragione, sono convinto che fu più forte la spinta popolare espressa in quei referendum che non l'effetto dei processi di Milano. Probabilmente le due cose si mescolarono, non ci sarebbe stata una tale spinta antipolitica, antipartitocratica, se non ci fosse stata questa immagine di una classe dirigente afflitta dalla corruzione. Per un momento sembrò che questi volti che tutti ci ricordiamo, a cui ci eravamo abituati, che probabilmente ci avevano anche un po' stufato perché erano lì da molti anni, ecco per un momento sembrò che tutta quella fosse un'associazione a delinquere e quindi la reazione della gente fu quella di prendersi uno strumento che gli veniva offerto e che diceva una frase che ci siamo sentiti ripetere tante volte in questi anni, cioè i governi devono sceglierli i cittadini. Poi questa frase ha conosciuto un'ulteriore articolazione che era si deve sapere chi ha vinto la sera delle elezioni, questa è una cosa molto cara a Renzi, ma ci arriveremo anche a Renzi. Ecco l'inizio della rivoluzione io l'ho dato a quel punto, cioè a cavallo tra la nascita di Di Pietro, di Mani Pulite, del processo di Milano e i due referendum del 1991 e del 1993 in cui credo che se si va a fare il conto di quanta gente partecipò, stiamo parlando di referendum in cui arrivò a partecipare il 95% della popolazione, sono delle percentuali che ce le possiamo scordare per sempre, adesso vedremo, domani si vota anche qui ad Asti, vedremo qual è l'affluenza, ma insomma oggi si è molto contenti quando l'affluenza supera il 50%, mentre allora si arrivava molto vicini al 100%. Allora io penso che la spinta verso quei referendum fu una spinta che non riguardava esclusivamente il sistema elettorale, che è sempre una cosa complicata da specialisti, io stesso non sono mai riuscito a capirne tutte le implicazioni, ma riguardava la possibilità che veniva data ai cittadini col voto di capovolgere un sistema e di un capovolgimento si trattava, perché sostanzialmente passare dal sistema proporzionale, il sistema in cui gli elettori scelgono il partito in cui si riconoscono, ha un sistema maggioritario, cioè un sistema in cui gli elettori scelgono il governo da cui vorrebbero essere governate, hanno davanti un uomo, un programma, una coalizione, uno schieramento, quindi scelgono la destra, la sinistra, secondo se li convince di più quell'uomo, quel programma, quella coalizione. Ecco, era una cosa completamente diversa, di fronte a questa possibilità la gente scelse di cambiare e le rivoluzioni non sono solo quelle che vedono la gente che spara per strada o i capi e i dittatori impiccati o fuciliati, le rivoluzioni avvengono anche democraticamente col voto, la rivoluzione del 1991 e del 1993 avvenne sostanzialmente con il voto dei cittadini, avvenne contro l'indicazione dei partiti che in quel momento erano al governo del paese. Ci fu una frase di Craxi che è rimasta memorabile nel 1991 quando alla vigilia del voto disse è meglio andare al mare e disse è meglio andare al mare perché la legge sui referendum in Italia prevede che se non vota la metà più uno degli elettori il referendum non è valido. Ecco, la risposta a questa frase di Craxi fu quasi il 95% degli elettori che andarono a votare. Questo dà l'idea di quanto in basso era arrivato il prestigio dei partiti di governo e quanto forte era la rabbia della gente e la loro voglia di cambiare. Rabbia democratica, voglia non ci furono incidenti, non ci furono tensioni, non ci fu niente di violento, fu uno di quei cambiamenti assolutamente democratici, però fu l'inizio di una rivoluzione. Cosa si poteva pensare all'inizio di quella rivoluzione? Sicuramente si poteva pensare a un cambio della classe politica, della classe dirigente. Era evidente che i Fanfani, i Moro, gli Andreotti, i De Mita, i Craxi, i Berlinguer, ecco mi sono un po' dimenticato di Berlinguer, scusate una parentesi, la merita senz'altro Berlinguer che fu l'ultimo vero leader del partito comunista e fu un leader molto responsabile, guardato con gli occhi di oggi sicuramente non un innovatore, sicuramente uno che diffidava dei cambiamenti troppo veloci, consapevole che il popolo comunista che lui rappresentava era un popolo, come lo definì lui, di lotta e di governo, conservatore e rivoluzionario insieme. È difficile immaginare uno che sia insieme conservatore e rivoluzionario o di lotta e di governo, ma lui lo diceva perché era ben consapevole di questa contraddizione. Bene, cosa si poteva pensare? Si poteva pensare che sarebbe cambiata la classe politica e questo accadde. Si poteva pensare che tutta la prima fila dei leader di partito e dei capi di governo che avevano regnato per gli ultimi 25 anni di questa storia di mezzo secolo fossero ormai bulliti, praticamente, inutilizzabili e anche questo avvenne. Il congedo di Craxi dall'Italia e dalla vita politica avvenne, qualcuno di voi lo ricorderà, con quella scena terribile delle monetine scagliate contro la sua macchina. Quindi, diciamo, anche lì, se vogliamo, è un gesto abbastanza violento e la rabbia di quelle persone se uno rivede quelle immagini è molto forte, però, insomma, non ce n'era uno che avrebbe alzato un dito su Craxi. Gli tiravano le monetine in segno di disprezzo, ma nessuno era... la testa di Craxi, insomma, non cadde per quella ragione, cadde sotto le sentenze, cadde poi in esilio quando lui... se ne andò anche la parola esilio, una parola controversa, perché nel suo caso si trattò per metà di esilio, per metà di fuga. Certo, gli fu impedito di tornare quando era molto malato e ancora... a me è capitato molti anni dopo, quando ero in Inghilterra, che un leader della nuova generazione come Tony Blair mi chiedesse come mai in un paese civile come l'Italia non sia stato possibile organizzare quello che lui chiamava un corridoio umanitario per riportarlo in Italia, farlo curare in un vero ospedale e salvargli la vita. Io non ho saputo dargli una risposta perché l'Italia è capace di avere un cuore molto più grande in certe occasioni, in quel caso non lo è. Allora, si poteva pensare, insomma, una storia nuova una storia nuova, una classe politica nuova, un gruppo dirigente nuovo, un nuovo governo, ma soprattutto e questo era molto importante, una possibilità di scegliere finalmente a 360 gradi non più come era stato per 46 anni, al governo possono andare solo quelli, all'opposizione sempre quegli altri ma tutti possono andare al governo, tutti sono legittimati nella fase nuova. Ricordiamo che uno degli eventi che diedero inizio a questa fase nuova furono le elezioni di Roma del 1993 in cui si trovavano a confronto come candidati, era la prima volta che si votava con la legge dei sindaci che userete, ma avete già usato parecchie volte anche qui ad Asti, mi risulta peraltro alternando sindaci di schieramenti diversi come nello spirito della legge, era la prima volta che si votava in quel modo un sistema a due turni, al primo turno tanti candidati, al secondo turno solo due, chi vince dei due è il sindaco e i candidati che si confrontavano erano Francesco Rutelli, un giovane radicale che era approdato nel centro-sinistra e ne era diventato il candidato simbolo a Roma, un giovane radicale romano peraltro e Gianfranco Fini che era allora il pupillo di Almirante, cioè il capo del partito neofascista o postfascista chiamato, un partito che non aveva mai abbiurato il fascismo, anzi Almirante l'aveva sempre rimpianto quindi ovviamente sembrava una gara squilibrata, non si trovava uno disposto a scommettere un soldo sulla possibilità che Fini diventasse sindaco di Roma, perché si diceva un fascista Roma ha un sacco di elettori di destra ma non sceglierà mai un sindaco fascista insomma si pensava che sarebbe finita 90 a 10 o 98 a 2 bene, in questa occasione la novità, l'incognita fu che un signore che non era romano che frequentava Roma per lavoro ma sempre con un certo distacco, che adorava definirsi un uomo del fare un imprenditore brianzolo, conoscete la Brianza, è un territorio come il Piemonte ricco di imprenditori bene, questo signore che si chiamava Silvio Berlusconi parlando in un supermercato vicino a Milano disse, certo se io fossi a Roma voterei Fini e voterei Fini per capovolgere la situazione in quel momento Fini, cioè il capo del partito neofascista italiano, venne legittimato cioè se un uomo come Berlusconi, che aveva alle sue spalle una tradizione moderata, di destra ma non estrema poteva riconoscersi in uno come Fini, voleva dire che Fini aveva tutte le carte in regola e tant'è vero che quelle elezioni si conclusero 60-40 grosso modo cioè la credibilità di Fini ne ebbe un tale potenziale, ne ebbe un tale arricchimento dalle dichiarazioni di Berlusconi che ci fu un pezzo della città di Roma che non avrebbe mai votato Fini che invece disse sì, dai, votiamolo così cambiamo la situazione questo era il clima del 93, il clima della prima elezione dei sindaci che ricordiamolo furono tutti i sindaci di centro-sinistra e io ho un ricordo preciso di come nei giornali accogliemmo questa novità perché non era automatico che in una città di Roma ci fosse a Roma li aveva avuti altri sindaci di sinistra ma erano sempre eletti dal Consiglio Comunale sottoposti alle incertezze dell'Assemblea Comunale rimessi in discussione, spesso fatti cadere ma insomma non era automatico che in una città come Palermo per esempio la città dove io sono nato uscisse un sindaco di centro-sinistra e invece successe la risposta a tutto questo e anche voglio dire la prima vera applicazione del meccanismo che prevedeva i governi scelti dai cittadini furono le successive elezioni del 27 marzo 1994 le elezioni che furono vinte, anzi stravinte da Silvio Berlusconi cioè ci fu una forte ondata di sinistra nelle elezioni dei sindaci a cui rispose una forte ondata di destra da parte del Paese ma la cosa importante è che sia l'ondata di sinistra sia l'ondata di destra avvennero su uno sfondo assolutamente tranquillo, moderato, democratico senza nessun tipo di precipitazione, senza violenze senza che nessuno potesse gridare aiuto insomma cosa sta succedendo cioè era una svolta talmente legata alla richiesta dei cittadini che vederla realizzare sotto i nostri occhi fu un fatto di rassicurazione cioè con l'elezione dei sindaci di centrosinistra del novembre-dicembre 1993 e con l'approdo di Berlusconi al governo del 1994 quel popolo che nel 91 e nel 93 aveva votato per far fuori la vecchia classe dirigente potrebbe dire a se stesso ce l'abbiamo fatta è quello che volevamo questo diciamo se la rivoluzione fosse finita a quel punto si saremmo trovati in una delle tante normalità possibili delle rivoluzioni per intenderci simili a quelle a cui abbiamo assistito in anni successivi nei paesi dell'est post-sovietico in paesi come la Polonia, come la Romania, come l'Ungheria dove poi sono arrivati dei governi democratici dopo la lunga convivenza con il regime dittatoriale sovietico del secolo scorso anche lì anche la distruzione del muro di Berlino nel 1989 fu una distruzione democratica, tranquilla un passaggio senza traumi guidato dall'alto ovviamente ma vissuto dalla gente come un'autentica conquista ecco se noi ci fossimo fermati lì avremmo potuto dire che l'Italia della seconda repubblica era un'Italia che aveva fatto la rivoluzione e che aveva a un certo punto si era a un certo punto dotata di un sistema istituzionale nuovo, diverso che faceva contare di più i cittadini questa era la sensazione dell'alba della seconda repubblica la sensazione insomma di un paese che aveva fatto una svolta importante molto importante una di quelle svolte che resteranno scritte nei libri di storia ma che l'aveva fatta con grande consapevolezza con grande tranquillità quello che non potevamo sapere è che questa svolta avrebbe inaugurato un periodo di turbolenza che dura fino ad oggi perché? innanzitutto l'entrata in scena di un personaggio come Berlusconi Berlusconi sta alla seconda repubblica come Andreotti stava alla prima Berlusconi per aver fatto quel discorso in quel supermercato in cui legittimò Fini è diventato storicamente il fondatore della prima repubblica nel senso che solo uno che non veniva dalla politica poteva legittimare un partito neofascista per le vie così brevi ricordiamo che il partito di Almirante non aveva firmato la Costituzione non aveva mai partecipato alla vita democratica del paese non aveva mai eletto un Presidente veniva eletto in Parlamento avevano una cinquantina sessantina di deputati e una ventina trentina di senatori in tutte le legislature della prima repubblica ma non avevano mai partecipato all'elezione di un Presidente della Repubblica era un gruppo di reietti del sistema cioè venivano guardati come un'anomalia come un gruppo di appestati e l'idea che potessero invece contribuire al normale gioco democratico ci voleva uno come Berlusconi per farsela venire intesa e talmente la sua intuizione era giusta che quel partito che aveva contato più o meno il 4-5% per i 46 anni della prima repubblica improvvisamente balzò al 14% dei voti se l'avessero visto lo videro i leader della prima repubblica che stavano sempre lì a sperare di guadagnare uno 0,5% io non so quanti di voi si ricordano i risultati delle elezioni nella prima repubblica per giorni e giorni la radio, la televisione trasmetteva più 0,5 meno 0,5 poi alla fine si diceva ha vinto quello ha vinto quell'altro perché avevano guadagnato 100.000 voti no ecco Fini in un colpo triplicò i suoi voti e si scoprì che c'era più di 2 milioni di cittadini italiani che lo votavano perché pensavano che fosse il più adatto a fare una una rottura per collaborare ad accelerare forse una rottura del sistema ecco se ci fossimo fermati lì avremmo fatto una svolta importante ma non potevamo immaginare che ovviamente il sistema non era adatto a reggere un contraccolpo di questo perché il sistema non era adatto perché ve l'ho detto prima cioè il sistema era fondato sulla centralità del Parlamento e il Parlamento era fondato il Parlamento aveva diciamo come obiettivo quello della rappresentazione di tutti gli interessi particolari della società civile insomma il Parlamento era un insieme di corporazioni lo dico nel senso buono la parola non nel senso spregiativo era un insieme di corporazioni era un insieme di classi sociali era un insieme di rappresentanti sindacali era un insieme di dirigenti industriali e poi era un insieme composto in gran parte di una classe politica che faceva della politica la sua professione cioè non c'era niente di male a dire sono un politico no perché i partiti italiani erano delle scuole politiche di primissimo di primissima classe insomma cioè quello che in Francia è l'ENA cioè in Francia una delle più grandi scuole di pubblici funzionari che poi non so Chirac veniva da l'ENA Macron viene da l'ENA ecco quello che in Francia era l'ENA in Italia erano i partiti cioè non c'era assolutamente niente di male come oggi essere un politico è guardato come se sei un politico sei un po' ladro se sei un politico sei uno che non lavora quante volte sentiamo in televisione dire ma quello lì è un politico ha mai lavorato in vita sua no il lavoro politico era considerato un lavoro importante per la società perché serviva diciamo a mandare avanti l'organizzazione di un paese bene non si era riflettuto sul fatto che l'irruzione dentro il Parlamento di una società civile cioè di un insieme formato in gran parte da cittadini cittadini che venivano dalle professioni che non avevano nessun tipo di preparazione politica per far funzionare le istituzioni non si era riflettuto sul fatto che questo avrebbe creato un cortocircuito e infatti un cortocircuito si creò diciamo il primo governo di Berlusconi pur uscendo da una clamorosa vittoria elettorale durò pochi mesi e durò pochi mesi perché la parte più politica di quel governo che era rappresentata da Bossi dalla Lega che temeva insomma di essere schiacciata da questo personaggio del tutto anomalo anomalo come politico che era Berlusconi la Lega dopo 7-8 mesi gli tolse la fiducia fece cadere il governo e benché Berlusconi invocasse una cosa che era una logica conseguenza del cambiamento del passaggio dalla prima alla seconda repubblica che Berlusconi disse essendo io stato eletto dal popolo se mi buttate giù bisogna rivolgersi di nuovo al popolo cioè il popolo che deve decidere chi governa il paese questa è la novità invece naturalmente questo non fu fatto Berlusconi venne messo da parte venne messo su alla meglio un governo tecnico che non aveva neanche la maggioranza vela del Parlamento e si andò avanti per due anni cercando di fare l'indispensabile e convinti che sarebbe stato più logico tornare al vecchio sistema che la sbornia sarebbe passata e gli elettori italiani si sarebbero resi conto che il nuovo sistema non poteva funzionare perché comunque era fatto di gente impreparata alla politica quale non fu la sorpresa quando invece la sbornia come l'abbiamo chiamata o comunque la spinta degli elettori italiani non si arrestò e anche la vittoria avvenuta poi nel 96 dello schieramento avversario cioè dello schieramento di centrosinistra fu vissuta dai cittadini come un'ulteriore prova che l'Italia era cambiata anche perché di quello schieramento di centrosinistra facevano parte i comunisti che nel frattempo avevano cambiato nome anche Fini cambiò nome nessuno si chiamò più comunista nessuno si chiamò più fascista forse rimasero allo stesso modo un po' comunisti e un po' fascisti senza dirlo però insomma così come Berlusconi aveva governato con l'appoggio di un partito secessionista che era la Lega e un partito post fascista che era quello di Fini il centrosinistra di Prodi governò con l'appoggio molto importante il partito più importante della coalizione era un partito che aveva smesso di chiamarsi comunista ma che aveva nel gruppo dirigente tutti quelli che erano stati comunisti quindi la gente che festeggiò ma anche quelli che osteggiarono l'avvento del primo governo di centrosinistra dovettero poi convergere sul punto che il paese era cambiato perché poteva essere governato alternativamente da schieramenti che è opposti cosa che si era già verificato con i sindaci cosa che come dicevo prima qui ad Asti avete sperimentato con particolare frequenza insomma questo è il punto qual è la differenza tra le due coalizioni indubbiamente quella di Berlusconi era dominata dal personaggio Berlusconi e da un personale politico e di governo che veniva dalla sua azienda e che quindi aveva delle caratteristiche manageriali ma non istituzionali il governo di Prodi invece era il meglio di quello che era rimasto della prima repubblica tra democristiani e comunisti accompagnata da una serie di piccoli partiti che erano stati introdotti nella coalizione a forza per fare numero perché insomma non c'è mai stata una maggioranza di italiani di centrosinistra cioè l'elettorato italiano è sempre stato in maggioranza di centrodestra e non di centrosinistra e nelle elezioni del 1996 la vittoria di Prodi che fu una vittoria molto importante per il centrosinistra avvenne perché c'era stata la rottura tra Berlusconi e la Lega cioè la coalizione di Berlusconi si presentò separata la Lega andò al voto per conto proprio Berlusconi e Fini da soli non ce la fecero a raccogliere i voti sufficienti a battere Prodi Prodi vinse ma vinse perché gli altri avevano perso cioè in sé non aveva un numero di voti che corrispondeva alla maggioranza del paese detto questo aveva una coalizione composta da persone più attrezzate che venivano da esperienze politiche anche del passato e che soprattutto guidarono il paese a una svolta che fu una svolta importante come quello dell'ingresso nel sistema dell'euro fatto devo dire grazie anche a una disponibilità dei elettori e dei contribuenti che oggi ce la sogneremmo se uno pensa che Prodi decise di entrare nell'euro all'ultimo momento dopo aver pensato di non entrarci subito ma al secondo giro e dovete chiedere agli italiani il pagamento di una eurotassa cioè di una cosa che sostanzialmente era una patrimoniale quella che cioè oltre alle tasse normali gli si chiese di fare un versamento eccezionale proporzionale al patrimonio che ciascuno possedeva e che la gente pagò ben volentieri perché gli italiani erano in quel momento felici di entrare in Europa non come adesso che una parte degli italiani pensa che sarebbe meglio uscire dal sistema dell'euro perché ne ha scontato anche delle conseguenze negative in termini di contrazione del proprio stile di vita bene anche questa anche questa coalizione fatta di gente come dire un po' più blasonata un po' più attrezzata se vogliamo anche un po' meno popolare di quella di Berlusconi anche questa coalizione non riuscì a governare il paese cioè su che cosa si arenò sullo stesso tipo di problema che aveva avuto Berlusconi solo che nel caso di Berlusconi si era manifestato di improvviso e anche in modo distruttivo un bel dì Umberto Bossi si era alzato in Parlamento e aveva detto da oggi noi ti togliamo la fiducia caro Berlusconi vai a quel paese nel caso di Prodi fu invece una lenta opera di erosione che gli faceva perdere oggi un voto su un certo provvedimento oggi un voto sull'altro gli faceva rinviare un consiglio dei ministri dopo l'altro cambiare l'ordine del giorno insomma sotto gli occhi della gente che l'aveva eletto c'era un governo guidato da un personaggio che adesso non so può piacere o non piacere ma parliamo di uno dei più grandi economisti del paese uno dei pochi che è riconosciuto in America in Cina in Asia ancora oggi che è fuori da quasi dieci anni dal governo è molto molto stimato in tutto il mondo ecco parliamo di un governo così che non riusciva a fare quello che si era proposto di fare insomma il programma vi ricordate io ho detto si cominciò a votare per un uomo un programma una coalizione uno schieramento bene l'uomo c'era lo schieramento c'era il programma c'era però non riuscivano a fare quello che avevano detto che avrebbero fatto e naturalmente nel frattempo i problemi montavano perché un paese come l'Italia è un paese che produce continuamente una serie di problemi in più la scelta di entrare in Europa come non c'è bisogno che ve lo ricordi si rivelò una scelta politicamente accorta un motivo d'orgoglio per il popolo italiano però il successivo ingresso nel sistema dell'euro dal punto di vista dell'economia domestica si rivelò un problema cioè improvvisamente la gente si accorse che era diventata più povera perché il cambio fra la lira e l'euro era stato pagato più alto di quello che ci si poteva consentire cioè perché c'era stato fatto scontare il fatto di aver preso l'autobus all'ultimo momento quando uno salta sul predellino dell'autobus che la macchina è già in moto ecco questo fu più o meno il modo in cui noi entriamo quindi diciamo le due coalizioni mostrarono nel breve giro di tre anni tra il 94 e il 97 gli stessi limiti e il popolo che aveva fatto la rivoluzione si chiese come è possibile cioè in fondo abbiamo cambiato tutto la classe dirigente il parlamento le istituzioni eppure non funziona perché non funziona e non funzionava perché una nuova insomma era cambiato il conducente ma non era cambiato il mezzo diciamo il tipo di sistema istituzionale che veniva guidato dai cittadini dal basso era però il vecchio sistema istituzionale che era fatto per funzionare a quel modo cioè per gonfiarsi e sgonfiarsi gonfiarsi e sgonfiarsi in modo da attutire le tensioni in questo modo invece le tensioni si erano acuite perché la gente si aspettava chiedeva un cambiamento immediato e la nuova classe dirigente non era in condizione di Dario ci furono una serie di tentativi ricordiamolo alcuni fatti di nuovo con lo strumento del referendum cioè si disse a un certo punto stiamo parlando di anni come il 96 il 97 il 98 insomma alla fine del secolo scorso si disse a un certo punto non funziona scusate non funziona perché non siamo stati capaci di cambiare veramente abbiamo fatto una legge elettorale che è complicata il 75% si vota nei collegi il 25% è ancora il voto dei partiti insomma i partiti ci sono ancora e se ci sono i partiti non può funzionare errore enorme perché avremmo dovuto dirci invece cerchiamo di fare dei nuovi partiti cerchiamo di organizzare lo dice la Costituzione cerchiamo di organizzare la vita politica attorno a dei nuovi partiti cos'è la politica senza partiti non è niente insomma ci vuole un luogo dove la gente si confronti ci vuole un luogo dove le idee vengono amministrate coltivate concimate anche e invece noi improvvisamente fumo presi da questa furia che diceva bisogna cancellare quello che ancora c'è del sistema dei partiti e si fece un referendum che tendeva a cancellare così come i due referendum del 91 e del 93 avevano cancellato prima le preferenze e poi il voto proporzionale per i partiti questo sistema tendeva a cancellare la piccola quota del 25% che ancora consentiva di eleggere in Parlamento un quarto dei rappresentanti attraverso i partiti bene questo referendum ebbe un risultato molto controverso perché da un lato non raggiunse il 50% degli elettori è un referendum del 1999 da un lato non raggiunse il 50% degli elettori quindi fu annullato e si disse beh se la metà della gente non è andata a votare vuol dire che non interessavano dall'altro però quando si spogliarono le schede quando si aprivano le schede si scoprì che il 90% dei voti era a favore della cancellazione dei partiti quindi c'era una forte indicazione politica quelli che erano andate a votare mancano non credo 35.000 40.000 voti per far scattare la validità del referendum e il risponso delle urne era inequivocabile cioè la gente non voleva più saperne dei partiti la gente voleva solo eleggere attraverso il sistema dei collegi voleva insomma avere di fronte il proprio candidato non conoscerlo attraverso il filtro di una lista bloccata proposta dai partiti attenzione questo dettaglio è molto importante il dettaglio per cui nel canale proporzionale nel canale dei partiti i partiti che si erano ormai ristretti in questa specie di ridotta che eleggeva solo un quarto degli elettori proponevano i loro candidati con una lista bloccata cioè diversamente da quello che era avvenuto nei 46 anni precedenti della prima repubblica tu non potevi scegliere con la preferenza dovevi semplicemente mettere una croce sulla lista del partito ed era il partito a importi il candidato dico è un dettaglio importante parliamo del 1999 siamo oggi nel 2017 cioè 18 anni dopo perché questo qui sarà un problema che ci trascineremo dietro e che porterà diciamo a una nuova ondata rivoluzionaria perché appunto i cittadini erano scontenti del fatto che il sistema non funzionasse delusi da entrambi le coalizioni cioè gli elettori di Berlusconi erano scontenti per come funzionavano i governi di Berlusconi gli elettori di centrosinistra erano scontenti per come funzionavano i governi di centrosinistra vi ricordo solo che l'ultimo governo Prodi che nacque nel 2006 al primo punto dell'ordine del giorno del primo consiglio dei ministri mise la questione delle unioni civili e ci fu una sollevazione proprio all'interno dell'elettorato una sollevazione di quelli che volevano che fossero subito consentite per decreto come sappiamo sono state invece consentite per legge solo l'anno scorso solo alla fine del 2016 e una sollevazione ancora più forte di tutti quelli che dicevano ma vi sembra il caso che il primo provvedimento che un governo vada sia quello di consentire delle unioni civili ma con un governo di centro-sinistra un paese in crisi economica non c'è il lavoro le fabbriche chiudono i datori di lavoro licenziano e voi vi presentate con le unioni civili ma non c'è questo per dire il tipo di scontento che c'era all'interno degli schieramenti e questo scontento era legato al fatto anche che quel che restava dei partiti continuava a imporre la propria classe dirigente attraverso questo sistema dei listini bloccati che è durato fino adesso e che attualità di questi giorni si è cercato inutilmente di abolire senza riuscirci quindi la crisi della prima repubblica scusate la crisi della seconda repubblica cominciata nel 1994 era già matura 6-7 anni dopo 1994 primo governo Berlusconi 1996 primo governo Prodi Prodi riesce a governare solo due anni cade esattamente come era accaduto Berlusconi nel 1994 per un colpo di mano interno della maggioranza qualcuno disse un complotto di D'Alema io non sono sicuro che D'Alema organizzò un complotto certo era sicuro che quella maggioranza in Parlamento non reggeva che era uno schieramento composto di 17 diversi partiti e naturalmente i piccoli partiti più piccoli erano più fortemente dettavano le condizioni quello che aveva i due voti che servivano per fare maggioranza era il padrone e naturalmente quelli che invece mettevano il restante 70-80% dicevano ma perché deve comandare lui visto che noi portiamo l'ammasso dei voti che serve per vincere le elezioni quindi la crisi era matura già nel 1998 quando cadde il governo Prodi del resto era avvenuta la prova generale cioè Berlusconi e Prodi erano caduti allo stesso modo Berlusconi e Prodi allo stesso modo non erano riusciti a governare Berlusconi e Prodi erano rimasti invischiati in un sistema parlamentare che aveva ancora quella caratteristica che abbiamo detto all'inizio che del resto è garantita dalla nostra Costituzione cioè che è sempre il Parlamento a decidere e loro quando cadevano dicevano scusate ma a noi c'è eletto il popolo noi non siamo stati eletti in Parlamento noi veniamo con un preciso mandato dei cittadini elettori quindi il Parlamento non ci può abbattere a meno che non si rifacciano le elezioni e la risposta di quelli che avevano fatti cadere era diciamo ma questo qui nella Repubblica dei tuoi sogni nella Repubblica parlamentare italiana quando cade un governo se ne fa un altro e si fa un governo come si è sempre fatto il Presidente della Repubblica fa le consultazioni alla fine delle consultazioni incarica uno se la situazione è particolarmente difficile non incarica neanche un politico ma incarica un tecnico un economista un uomo della sicurezza un magistrato insomma uno che non sia strettamente connesso ai partiti e si rifà un altro governo e si va avanti finché è possibile e le elezioni si fanno ogni cinque anni finiamola con questo sistema che appena cade un governo bisogna rifare le elezioni guardate che nell'Italia del passaggio fra la prima e la seconda Repubblica le elezioni erano avvenute nel 1992 nel 1994 e nel 1996 cioè si usciva da un periodo in cui ogni due anni si ricominciava da capo quindi c'era anche un atteggiamento legittimo da parte dei capi delle istituzioni tipo il Presidente della Repubblica tipo i Presidenti delle Camere a dire stiamo attenti perché qui se continuiamo a fare le elezioni ogni due anni a un certo punto il sistema non regge in più però è altrettanto vero che il sistema non reggeva più ma non funzionava perché era rimasto il vecchio sistema e quindi il tentativo di farlo funzionare secondo la spinta che veniva dai cittadini non poteva materialmente reggere in un sistema insomma era come giocare a regmi su un campo di calcio o far correre in Formula 1 delle utilitarie insomma per ogni tipo di competizione ci vogliono delle regole in quel caso si giocava una partita nuova con delle regole vecchie la crisi era matura già nel 1999 quando si fece quel referendum per abolire la quota dei partiti e quando quel referendum fallì dal 1999 al 2017 noi abbiamo avuto insieme la crisi della seconda repubblica e delle continue ondate rivoluzioni cioè si è pensato di risolvere il problema o cambiando il sistema senza riuscirci mai o cambiando gli uomini oppure facendo una cosa diversa cioè cambiando i nomi dei partiti e lasciando le stesse persone al comando no si disse facciamo le riforme istituzionali si disse si era detto tante volte per la verità ma si disse qua che cosa ci vuole ci vuole insomma un Parlamento che abbia una sola camera un sistema elettorale che consenta a chi vince le elezioni di avere una maggioranza sicura e non di metterle insieme con 17-18 partiti diversi e soprattutto ci vuole un sistema che consenta al Presidente del Consiglio quando si sente in difficoltà di chiamare le elezioni come è avvenuto in Inghilterra peraltro la prima ministra May ne ha fatto le spese cioè ha chiamato le elezioni le ha perdute poi insomma farà lo stesso il governo però si trova peggio di più insomma si disse che ci volevano delle cose che in Europa ci sono un sistema elettorale come quello francese come quello inglese un sistema istituzionale come quello francese come quello inglese cioè con una sola camera che conta e non con questo continuo rimpallo tra la camera e il senato di nuovo la camera e di nuovo il senato perché basta fare un emendamento in una delle due camere e bisogna ricominciare da capo un Presidente del Consiglio che finalmente avesse i poteri di primo ministro cioè non dovesse chiedere sempre il permesso per realizzare il suo programma cioè si vota i cittadini decidono qual è il programma il Presidente del Consiglio lo realizza se ha un ministro che lo ostacola lo licenzia esattamente come un capo impresa può decidere di cambiare un dirigente di un settore che non funziona e questo fu il tentativo questo tentativo fu fatto nel 2001 fu fatto nel 2005 è stato fatto negli ultimi anni che vanno diciamo dal 2013 al fatidico 4 dicembre del 2016 in cui la Seconda Repubblica è finita per sempre che esituebbe questo tentativo che esituebbero questi tentativi sempre fallimentari nel 2001 al governo c'era il centrosinistra mise giù un programma che prevedeva appunto le cose che vi ho detto questo programma non poteva essere realizzato perché all'interno della coalizione di centrosinistra c'erano innanzitutto i piccoli partiti che dicevano ma se si fa una camera sola diminuiscono i posti se diminuiscono i posti c'è il rischio che i piccoli partiti non sono rappresentati poi se si fa un sistema elettorale che prevede che ci sia una maggioranza forte che faccia riferimento solo a un uomo cioè che la maggioranza non si formi nel Parlamento come era continuata ad avvenire e anche lì c'è il rischio che dei partiti che diventano superflui no perché il sistema è maggioritario cioè moltiplica il risultato di chi vince le elezioni dei partiti diventano superflui e siano tagliati fuori insomma il primo tentativo degli anni della seconda repubblica di fare la riforma delle istituzioni si risolse in come si dice la montagna partorì il topolino si dice così cioè si fece un grande progetto e poi l'unica cosa che si riuscì ad approvare fu la famosa riforma del titolo quinto cioè del rapporto fra il governo e gli enti locali fra il governo e le regioni con un risultato pratico tremendo perché naturalmente si stabilì un contenzioso tra le regioni e il governo che andavano tutte alla Corte Costituzionale cioè si era sostanzialmente deciso che alcune materie mettiamo la sanità anziché essere amministrate insieme dallo Stato centrale e dal governo locale passassero tutti ai governi locali era una scelta democratica intendiamoci era una cosa che rafforzava i governi locali ma nella pratica attuazione di tutto questo siccome questo sostanzialmente veniva a cancellare il ministro della sanità che è un ministro molto importante stabilì un contenzioso enorme tra il ministro della sanità da una parte e i 20 assessori alla sanità delle 20 regioni che non volevano obbedire più al ministro della sanità ci sarebbe da aggiungere che la maggior parte degli scandali di corruzione che si sono verificati negli ultimi 10 anni sono tutti nella materia della sanità e quindi qualcosa in più non ha funzionato in questo sistema non c'è scandalo di corruzione da Trapani a Bolzano che non riguardi i fondi per la sanità quindi la montagna partorì il topolino nel 2005 quando Berlusconi fece la famosa riforma dei quattro saggi cioè mandò quattro esperti che erano alcuni erano esperti nel senso che erano dei professori di diritto altri erano dei praticoni tipo Calderoli insomma fecero una riforma che corrispondeva a tutte le cose che abbiamo detto riduzione del numero dei parlamentari governo più forte parlamento più debole con il piccolo dettaglio di rinviarne l'attuazione pratica a 10 anni dopo cioè nella legge c'era scritto che cambiava la costituzione ma che il cambio effettivo della costituzione sarebbe cominciato 10 anni dopo e avevano detto 10 anni perché si davano due legislature di tempo sapete che le legislature durano 5 anni per poterla ricambiare di nuovo cioè per tornare indietro questo era stato l'unico modo di convincere quelli che non la volevano votare a votarla tu la voti poi stai tranquillo che la prossima legislatura la cambiamo e torniamo come si è sempre fatto cioè è una cosa che usiamo per la campagna elettorale questo era il 2005 nel 2012 devo aggiungere che a questa riforma si accompagnò una legge che fu definita dal suo stesso ideatore Porcellum perché questa legge elettorale prevedeva che il partito che avesse preso un voto più degli altri prendeva 340 deputati alla Camera cioè prevedeva che per ipotesi se 10 partiti avessero preso il 10% ciascuno quello che prendeva 10% più un voto prendeva 340 deputati cioè moltiplicava per 5,5 il numero dei voti che aveva letto cioè il criterio maggioritario a cosa dovrebbe obbedire a fare sì che se tu prendi il 45% ti diamo un aiutino del 5% e hai la maggioranza ma non che se tu prendi il 10% ti diamo il 55% perché se ti diamo il 55% abbiamo fatto una cosa che democratica non è perché abbiamo stravolto l'opinione degli elettori bene questa legge è stata in vigore per più di 10 anni in Italia con questa legge Prodi ha rivinto le elezioni nel 2006 con questa legge Berlusconi le ha rivinte nel 2008 con questa legge nel 2013 si verificò il famoso caso della non vittoria cioè Bersani vinse alla Camera e non vinse al Senato quindi non ebbe la maggioranza per fare il governo e non vinse al Senato pur avendo vinto alla Camera perché nel frattempo nello scenario italiano era comparso un nuovo protagonista Beppe Grillo e il Movimento 5 Stelle quindi l'idea di cambiare le istituzioni per far funzionare il sistema era già stata travolta dall'idea di metterci degli uomini nuovi senza uomini nuovi non si cambiano ed era comparso Beppe Grillo adesso non vi devo dire chi era Beppe Grillo perché tutti voi lo conoscevate come un comico lo guardavate in televisione un uomo spiritosissimo insomma era un po' il crozza degli anni 80 insomma nessuno aveva badato al fatto che questo signore ogni tanto faceva degli spettacoli sotto dei tendoni da circo in cui ne diceva di tutti i colori parlava male diceva anche delle cose abbastanza strane le onde magnetiche l'inquinamento dei vaccini le cose tutte le cose cioè sembrava il personaggio che avevamo sempre visto in televisione cioè un comico un po' matto con delle idee molto fantasiose che che se la prendeva con con il governo con la politica bene nessuno poteva immaginare che questo signore avrebbe fatto un partito un movimento che sarebbe arrivato primo ad elezioni del 2013 questa fu la sorpresa cioè i due schieramenti che si erano combattuti per per vent'anni dal 94 al 2013 avevano lasciato spazio di nuovo a una grande rabbia popolare simile a quella del 1991 e del 1993 che non trovando altro sfogo per esprimersi non trovava lo sfogo di un referendum non trovava lo sfogo di elezioni vere che consentissero consentissero di realizzare il programma che loro avevano scelto a un certo punto hanno scelto di manifestare il loro scontento attraverso un uomo e un movimento completamente nuovo ma completamente perché guardate Berlusconi non era un politico ma era un imprenditore molto conosciuto Prodi non era un politico ma era un economista molto conosciuto attorno a Berlusconi c'erano uomini di impresa c'erano dirigenti della sua azienda attorno a Prodi c'era diciamo il meglio che era rimasto della prima repubblica ma attorno a Grillo quando è entrato in scena non c'era nessuno cioè attorno a lui c'erano un gruppo di ragazzi di 25 28 30 anni molti dei quali non avevano neanche un titolo di studio quindi i primi giorni non a caso poi diciamo durante questa legislatura si è spesso assistito a episodi di violenza vera dentro il Parlamento sono stati menati dei commessi sono stati menati il vicepresidente della Camera ma non perché fossero violenti ma perché non sapevano reggere cioè è come quando un animale non è domestico tu prendi un animale selvatico lo metti in una gabbia probabilmente impazzisce fa dell'autogressionismo ecco i parlamentari di prima generazione del Movimento 5 Stelle si è detto con tutto il rispetto per carità arrivano alla Camera in queste condizioni come degli animali selvatici che entrano in una gabbia senza sapere che alle loro spalle si chiuderà la porta e quindi nel primo periodo erano poi no poi sono cambiati anche loro le istituzioni servono per quello perché educano tutti a una certa condotta questo è quello che è successo nel 2013 cioè che la rivoluzione che non aveva trovato uno sfogo e un assetto istituzionale si è espressa facendo primo partito il partito di un comico è di un gruppo di ragazzi che utilizzando la rete internet e a volte ricevendo anche un numero esiguo di manifestazioni di consenso ci sono parlamentari del Movimento 5 Stelle che sono stati scelti per essere candidati con 17 like sul computer o con 25 o anche con 7 8 abbiamo visto che adesso alle elezioni locali a Genova per esempio è successo un caso clamoroso Genova e la città di Grillo in cui a un certo punto è uscita per sbaglio una che non doveva uscire e Grillo l'ha dovuta mettere da parte ma quella naturalmente si è candidata allo stesso perché dice un momento la rete deve valere per tutti mica vale solo per quello che dici tu quindi siamo arrivati a questo punto la rivoluzione sta per ricominciare e sta per ricominciare perché è assolutamente possibile che il Movimento 5 Stelle prenda la guida del paese no se dobbiamo seguire il trend di questi anni che io vi ho sommariamente riassunto soprattutto dal punto di vista dei vari punti di crisi diciamo cioè dovremmo averci dovuto raccontare tutto l'avremmo fatto notte qui ma esiste la possibilità concreta che il Movimento 5 Stelle prenda la guida del paese e questa possibilità poteva essere incoraggiata dal sistema elettorale che nella scorsa settimana è stato discusso alla Camera e che poi è saltato per quella votazione a sorpresa che è avvenuta giovedì a sorpresa nel senso che i franchi tiratori l'hanno fatta saltare allora perché quella legge favoriva questa possibilità perché nell'estremo tentativo di eliminare i piccoli partiti i grandi partiti dicono non è colpa nostra sbagliano non è vero è anche colpa loro però loro dicono non è colpa nostra la colpa è sempre di questi maledetti piccoli partiti che ci mettono i bastoni fra le ruote che non ci consentono di realizzare i programmi che badano a loro interesse particolari allora cosa bisogna fare bisogna trovare un modo di eliminarli avevano trovato questo modo che era di rifare una legge proporzionale guardate che cosa incredibile la nuova fase della rivoluzione comincia con un sistema che era quello della prima repubblica il sistema proporzionale è sempre stato quello della cosiddetta pannella lo chiamava la partitocrazia ma immaginate cos'è fare una partitocrazia senza partiti o fare un parlamentarismo senza parlamento visto che il parlamento è ridotto come vi dicevo bene avevano pensato questo sistema che prevedeva che la gente votava per tutti i partiti che si volevano presentare ci sono state in questi anni delle volte che sono stati presentati anche 98 simboli diversi di partito naturalmente non tutti in 98 sono entrati in parlamento la gente votava per qualsiasi partito ma soltanto i partiti che avessero superato il 5% dei voti sarebbero entrati in parlamento questo avrebbe fatto sì che in parlamento sarebbero entrati sulla carta diciamo quattro partiti il partito democratico il partito di forza italia di berlusconi il partito di salvini e il movimento di grillo questi quattro movimenti questi quattro partiti si sarebbero suddivisi il parlamento con quote diciamo una metà se lo sarebbe un po' più della metà se lo sarebbero prese il partito democratico il movimento di grillo una metà della metà se lo sarebbero presi forza italia e leica la restante metà della metà si sarebbe giocata tra i due più forti no e quindi quello dipendeva di nuovo da voi dagli elettori a chi volevate fare le quote di partenza erano queste un quarto malcontato da un quarto a un terzo Berlusconi scusate Grillo e Renzi e da un quinto a un quarto Salvini e Berlusconi ovviamente gli elettori avevano il potere di determinare il fatto che uno di quei partiti diventasse più forte anziché un terzo diventasse il 40% anziché il 40% diventasse il 45% certo sarebbe stato impossibile perché non si è mai verificato non si verificò neanche nel 1948 che uno di quei partiti prendesse la maggioranza e quindi che cosa avevano deciso di fare facciamo una legge che garantisca che in Parlamento ci siamo noi e torniamo al sistema della seconda repubblica in cui poi la vediamo noi come organizzarci troviamo noi un sistema per mettere su un governo ma naturalmente una legge di questo genere consentiva perfettamente che la somma di Grillo e Salvini facesse maggioranza e se Grillo e Salvini avessero fatto maggioranza sarebbe stato molto più facile per loro formare un governo di quanto non sarebbe stato formarlo per Renzi e Berlusconi insieme comunque le due ipotesi più accreditate di governo erano ipotesi in cui i partiti opposti si mettevano insieme per fare un governo di coalizione ecco questo qui è un esito imprevedibile della rivoluzione italiana perché credo che se noi ragioniamo sul fatto che nel 1993 94 quando la seconda repubblica comincia la gente vuole che ci sia appunto un governo chiaro cioè che venga realizzato un programma che viene incontro alle sue esigenze e poi viene delusa dal funzionamento del sistema tornare indietro cioè l'idea che poi visto che i governi scelti dai cittadini non funzionano ridiamo ai partiti il potere di formare il governo non è affatto sicuro che funzioni mi chiederete come è stato possibile che una rivoluzione durata quasi 25 anni un quarto di secolo approdi a qualcosa che somiglia al prima e non a un estremo dopo beh è stato possibile perché come vi dicevo la seconda repubblica è morta il 4 dicembre 2016 il 4 dicembre 2016 le riforme la terza ondata di riforme istituzionali proposta da Renzi guardate nel merito c'erano parecchie cose sbagliate ma l'indirizzo era quello cioè una sola camera un presidente del consiglio dotato di poteri veri la fiducia data dai cittadini che corrisponde alla fiducia data dal Parlamento una legge elettorale a due turni come quella francese in cui al primo turno l'avete visto cosa è successo in Francia al primo turno c'erano quattro partiti del 20% al secondo turno uno 66 e l'altro 34 e quello del 66 vince fa il governo diventa presidente della Repubblica in due giorni forma un governo di sinistra di destra li mette insieme fa quello che vuole e il paese funziona perché comunque il paese è governato comunque il paese ha qualcuno che lo guida bene il 4 dicembre 2016 questa ipotesi di cambiamento che corrispondeva alle aspirazioni di tutto un periodo ve l'ho detto prima il 2001 il 2005 tutte le volte che si era tentato di farlo senza riuscirci bene questa ipotesi di cambiamento per la prima volta approvata dal Parlamento a costo di forzature non indifferenti proposta al parere degli elettori è stata bocciata ma è stata bocciata 60 contro 40 cioè lo stesso popolo di elettori che aveva fatto la rivoluzione di fronte allo sbocco rivoluzionario di una riforma che corrispondeva una volta e per tutte a quello che più o meno loro avevano desiderato si è spaventato e ha detto no per carità fai che dovesse funzionare veramente questo paese diventa autoritario dico questo per dire questo è il paradosso estremo della nostra rivoluzione che continuerà perché naturalmente continuerà finché non si riuscirà a trovare un sistema che funzioni e purtroppo non si trova questo è il paradosso cioè abbiamo fatto la rivoluzione per fare delle cose che quando si sono realizzate abbiamo respinto questo è il guai io vi ringrazio spero di essere stato al piano grazie a tutti grazie a tutti